Ciao a tutti, siamo qui oggi ragazzi a parlare purtroppo di una sconfitta maturata dalle fere in quel di Genova contro la Sampdoria una sconfitta pesante nonostante c'erano tutti buoni propositi per cercare una vittoria che poteva essere importantissima a livello di classifica visto i risultati delle altre e che però ci ha portato ad una sconfitta pesante per 4-1 ora partiamo subito ribadendo il fatto che la sconfitta in sé, i 4 gol in sé non sono importanti in quanto si giocava contro una squadra in piena lotta playoff e in piena forma fisica veniva da 3 vittorie consecutive, si giocava in uno stato pieno nonostante le tifoserie fossero gemellate comunque si vedeva a colpo d'occhio una grande presenza del pubblico toriano però quello che dà fastidio è che si giocava per un obiettivo importante che era quello della salvezza e di raggiungere forse per la prima volta in stagione una posizione classifica fuori dai playoff questo perché il Cosenza aveva perso in casa contro il Brescia il giorno prima quindi la Ternana ha affrontato questa partita scarica secondo me è stata una partita giocata sotto tono rispetto perlomeno a quelle che erano state le ultime prestazioni anche nelle sconfitte aveva dato dimostrazione di una forma fisica sprendente aveva dato dimostrazione di avere giocatori pronti in rosa e probabilmente la nazionale in questo ha avuto il suo contributo perché i giocatori della Ternana che sono andati nelle nazionali giovanili sono stati veramente numerosi e hanno visto in campo delle prestazioni molto sotto tono rispetto delle altre giornate sia Pittia che tra l'altro si è infortunato dopo 20 minuti che Raimondo, lo stesso Raimondo hanno giocato sotto tono Amatucci ha fatto probabilmente la peggior partita da quando è in rosso-verde in ogni caso la Ternana era riuscita a 20 minuti dal termine a raccomandare una partita dopo il vantaggio sul ricore di De Luca un ricore che obiettivamente in tempo di VAR c'è nel primo tempo ma che non aveva tolto certezza alla squadra che comunque sia, seppur a bassi toni era ripartita nel secondo tempo trovando il gol con Gaston Pereiro sempre lui che tra l'altro per inciso non ha mai sbagliato nessun pallone nel primo o nel secondo tempo ha sempre fatto salire i suoi compagni a differenza per esempio di Raimondo che spesso non è riuscito negli appoggi o nelle sponde durante qualche contropiede o qualche lancio che veniva dalla difesa dicevo, grazie a un bel cross finalmente di Casasola siamo riusciti a pareggiare una partita che fino all'ottantatresimo sembrava indirizzata verso il punto per il rosso-verdi che sarebbe comunque valso un movimento in classifica importante invece poi l'inserimento di Borini ha dato ancora maggiore freschezza alla Sampdoria che è riuscita a creare notevole occasioni numerose occasioni anche prima del 2-1 sulle quali era stato bravo Iannarilli ad opporsi in varie occasioni sicuramente Iannarilli è stato il migliore in campo del rosso-verdi ha seguito a braccetto da Pereiro ma che poi per il resto non ha avuto in altri giocatori i cardini del gioco rosso-verde dicevo quindi il gol del 2-1 ha un po' tagliato le gambe ai rosso-verdi ormai si era all'ottantatresimo e quindi le possibilità erano poche di ribaltare la partita però ci siamo buttati in avanti senza criterio andando poi dopo un paio di minuti scarsi a regalare il gol del 3-1 che ha di fatto chiuso la partita a pensarci bene con l'occasione subito dopo di Di Stefano che ha sbagliato un gol veramente facile quasi praticamente all'altezza dell'area piccola sugli sviluppi di un corner avremmo comunque potuto giocare gli ultimi 10-15 minuti con il recupero all'arrembaggio e quindi magari tenere un attimino il 2-1 dopo il colpo mentale ricevuto a 7 dal termine per un paio di minuti e poi giocarsi all'arrembaggio sinceramente non mi sono piaciuti i cambi il mister aveva due possibilità o cambiare prima secondo me oppure siccome vedeva che la squadra in campo non era poi così messa male continuare a giocare in questo modo ha tolto sicurezza la squadra ha tolto i punti di riferimento che erano maturati con calma nel corso della partita e poi abbiamo visto che non si è più riusciti a creare un'azione degna di nota continuiamo a sbagliare troppi cross dalla sinistra con Carboni che non riesce quasi mai a mettere palloni invitanti in area anche lui se ne è accorto perché abbiamo visto nella ripresa quando un cross facile per un mancino come lui è stato spedito in curva e soprattutto abbiamo evidenziato una volta in più la difficoltà che ha la nostra difesa a 3 al di là degli interpreti quindi al di là della presenza di Sorens e Nomeno questo c'era anche prima dell'arrivo di Sgarbi come difetto quello di non riuscire a prendere in maniera adeguata il trequartista avversario la Sampdoria sostanzialmente si era schierata con Verre alle spalle di De Luca con gli inserimenti dei centrocampisti soprattutto di Kasami e Verre ha dato molto fastidio perché spingeva Sorensen ad uscire lasciando sostanzialmente Capuano nell'uno contro uno con De Luca e anche lo stesso Capuano non è quasi mai riuscito a intervenire sull'attaccante Doriano tra l'altro ex Perugia che ci ha fatto una tripletta non è riuscito mai a intervenire in anticipo se non in rarissime occasioni quando l'attaccante la spalla è la porta in oltre ce lo siamo persi letteralmente persi in due o tre occasioni sia nelle occasioni del gol del 3 a 1 tra l'altro un bel gol bisogna ammetterlo che soprattutto nel primo tempo quando subito dopo l'1 a 0 De Luca è stato lasciato completamente solo di tagliare l'area di rigore rosso-verde e colpire a botta sicura davanti a Gianna Rilli per fortuna l'Ide Luca sbagliò e tirò fuori alla sinistra di Gianna Rilli bisogna stare più attenti perché non è un problema ripeto aver perso questa partita ma è il come è stata persa una squadra che deve salvarsi deve lottare fino al novantesimo deve tenere le partite aperte fino al novantesimo ed oltre lasciamo stare per inciso sui minuti di recupero perché non ho mai visto così pochi minuti di recupero nel secondo tempo se non vado errato tre che tra l'altro tra cambi e gol della Sampdoria sarebbero dovuti essere anche della Ternana nel secondo tempo sarebbero dovuti essere almeno 4-5 ma al di là di questo non avremmo comunque recuperato due gol la squadra deve lottare fino alla fine deve tenere le partite aperte fino alla fine e giocarsela nelle mischie nei diri da fuori nei calci d'angolo è importantissimo mantenere le partite vive perché si può strappare un punto da ogni campo o tre punti nel caso si stesse in pareggio fondamentali per la salvezza perché noi ce la giocheremo fino alla fine fino all'ultimo punto quindi cerchiamo fino alla fine di reggere l'urto e non sbraghiamoci come è successo con la Sampdoria andiamo avanti io ci credo ancora abbiamo la possibilità sabato di giocarci in casa uno scontro che all'inizio non poteva sembrare così ma in realtà uno scontro diretto perché vincendo con il Modena la Ternana accorcerebbe con i canarini di molto e li spingerebbe ad arrivare in zona retrocessione ricordiamoci che le squadre come il Modena come il Bari che si trovano a lottare per la salvezza dopo che erano state costruite per andare in Serie A possono risentire a livello psicologico tra l'altro c'è stata anche l'infortunio di Gelli che non farà bene al Modena ritroveremo Palumbo speriamo non sarà ispirato come all'andata ragazzi andiamo allo stadio sosteniamo ragazzi sosteniamo Rosso Verdi perché ne abbiamo bisogno abbiamo bisogno di portare a casa questi tre punti sabato io ci credo ripeto la squadra secondo me vale volevo solo chiudere con un grosso in bocca al lupo Pippo Sgarbi un giocatore fondamentale secondo me perché perdiamo l'unica alternativa valida in difesa con la velocità che aveva per esempio Teachite ma anche lo stesso Mantovani in grado di chiudere contro attaccanti rapidi ma allo stesso tempo abbiamo Sorensen e lo stesso Boloca dalle mura lucchesi che possono devono dare di più e possono aiutarci raggiungere l'obiettivo ricordiamoci che il nostro obiettivo deve essere il play out e quello che verrà di più sarà tutto guadagnato forza ragazzi non molliamo adesso crediamoci